Vieni con te, vieni con te, scena e ma potremmo Fa la roba per farla con te Buongiorno, ci stiamo dimenticando di fare il vlog oggi Ma non ci dimenticheremo Oggi è domenica, siamo in chiesa perché siamo cristiani E' una casa chiesa qua che avete visto sicuramente in qualche vlog Suoneremo e canteremo in Bosnia Inizio ad anticipare il Gospod significa Signore E basta, poi dopo, inutro, c'è un caffè Bravo Ho appena scoperto che oggi c'è la centacena Salam, 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 salam prosciutto Oggi è davvero una bella giornata Visitiamo un po' Biash per quello che è veramente Non solo per gli squat Comunque Biash, a parte gli squat, è veramente carina Con città Agar paper Non ce ne va Un ridotto del banco alimentare But, dobro E' un po' Biash per il nostro Abbiamo un po' Biash per il nostro E' un po' Biash per il nostro Ma non c'è la centina Ma non c'è la centina Ma non c'è la centina Adorami 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 Ok, bello a tutti ragazzi Stiamo andando a trovare un amico In un bar Dove è genia Dove è genia questo qua Nombra Sere Basta Nero Normalmente indosso sempre la collanina con la croce Ma mi hanno detto di toglierla Per un fatto molto particolare Praticamente quando c'è stata la guerra La civil war con i serbi e bosniaci I serbi venivano in Bosnia Uccidevano la gente Superano le donne Tutti facciano un sacco di cose brutte Quando lo facevano con un coltello Le disegnavano una croce col sangue E quindi qua non è ben visto Girare con le croce Quindi se venite in Bosnia Non fate vedere croci Hanno proprio un trauma Lo vedono proprio male Tranquilli Non vi disturba nessuno Vengono qua E ci siamo fermati qua al bar Ovviamente Però abbiamo bevuto una cioccolata Buonissima Temporeggiamo un po' Poi alle 7 e mezza Abbiamo un altro caffè Praticamente il nostro amico È proprio il nome del bar Gli ho scritto Guardate cosa mi ha risposto Questa è il bar E lui Ci sta spiando da là Questa è il bar Tu hai il money Tu hai tutto Questo è come il Brasile Si 300 cavalli Ok abbiamo perso un po' La cognizione del tempo Si è fatto buio Però vabbè È bello lì Perché parliamo con Aldin Ora siamo a cena con sé Ma Samir Guardatevi tutti i risultati Un po' Dei partiti Ciao Ecco Ecco Dai una squadra Bede Bede Madonnale E' questo Maledetto C'è Ma Non si può giocare Con il mestronale Allora siamo Nel solito ristorante Il Hyatt Io Vince Marco E Semir E Semir Say hi To our friends In Italy Stiamo mangiando La solita pizza Hyatt Con la schifosa Mamma mia Ma Che è pezza Questa 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 Questa